Arsenal Firearms, nota azienda italiana famosa per le sue armi corte, azienda famosa per la Stryker, ovvero la Strike One, la Strike One Speed, la Strike One Ergal Speed e adesso qui abbiamo la Strike One Ergal Pro. Questo modello si differenzia dalle altre pistole appunto per il fusto fatto interamente in lega di alluminio 70-75 interamente fresato dal pieno. A differenza della Ergal normale, la Ergal Pro ha il fusto completamente liscio. Questa scelta è stata fatta appunto per rendere l'impugnatura dell'arma estremamente più snella. Ricordiamo che quest'arma è stata realizzata per la categoria Production. Arma classificata sportiva ovviamente, si differenzia per il carrello alleggerito tramite queste fresature, mirino in fibra ottica da 1 mm, tacca regolabile, ovviamente la tacca può essere smontata e al posto di essa possiamo mettere una basetta per far alloggiare appunto al di sopra di essa un punto rosso. Questo esemplare porta la finitura del carrello nichelata con una sfumatura in titanio. Il fusto ha una finitura in ceracot nero opaco. Trattandosi di un prodotto custom made i clienti possono scegliere la finitura del carrello e il colore del fusto. Quest'arma esce con uno scatto match pro installato dalla fabbrica ovvero abbiamo uno scatto estremamente corto e estremamente morbido. Arma fornita in valigetta con doppio caricatore da 17 colpi. Ovviamente le fondine a cui possiamo attingere sono esattamente le stesse dell'arsenal firearms strike one. Sgancio del caricatore estremamente ben fatto. Qui abbiamo uno sgancio del caricatore identificato come modello 2021 ovvero invece che il rotondo ha una forma ovoidale maggiorata zigrinata. Trattandosi appunto di un'arma sportiva l'imbocco del caricatore è svasato per permettere un cambio del caricatore stesso più agevole e più rapido. Come tutte le strike one l'arma presenta un baricentro estremamente basso che porta la stessa ad avere un rilevamento estremamente ridotto. Arma ben fatta ben costruita gradevole nelle sue soluzioni tecniche ma soprattutto estremamente performante.